ragazzi ciao a tutti eccomi con un nuovo video in questo video vedete uno sfondo completamente diverso perché sono nella mia camera da letto visto che ieri sono andata a fare un po' di shopping per quanto riguarda l'abbigliamento mi sono comprata alcune cosine e ho deciso di indostarle e di farvele vedere ve le faccio vedere anche se non so se avrete la reperibilità di questi articoli perché comunque si è preso in un negozio della mia città quindi non so se sicuramente però le troverete in giro perché insomma non sono di marca non sono sono cinesi diciamo così e quindi insomma sicuramente le troverete anche in giro mi sono truccata per l'occasione di viola visto che comunque sia è il colore dell'anno infatti la maggior parte delle cosine che ho preso ha dentro il viola lo vedete anche qua dietro ecco qua e quindi niente ho fatto un look un po' dark un po' un po' halloween diciamo così bene dai iniziamo e vi faccio vedere quello che ho acquistato partiamo con questa donna mi avvicino allora a questa fantasia ha la cintura elasticizzata ea questa reglina color ruggine i colori sono ottaneo beige nero e viola eccola qua ha una sottogonna fino a questo punto e poi rimane velo ha un piccolo spacco nella zona bassa eccola qua diciamo che non è proprio strainvernale perché sicuramente non farà così tanto caldo ma mi piaceva la fantasia e adesso ve la faccio vedere indossata ecco questa è la gona indossata non ho scarpe al momento allora sopra questa maglia qui è una maglia che avevo già con l'ottagno ve la faccio vedere e sopra non penso di lasciarla così ma penso di metterci ovviamente un maglioncino che ho già sul beige che me lo metto subito così vi faccio vedere anche come ci sta ecco penso che questa maglia la porterò cioè questa maglia la porterò in questa maniera allora questa è la donna è carinissima ecco ma lontano non la vedete meglio il dietro è così questo è lo spacco si si vede di cui vi parlavo ho anche le gambe pelose però va bene quello poco importa e questo è il primo acquisto che ho fatto e mi piace veramente veramente tanto poi andiamo avanti vi faccio vedere il secondo acquisto questo è il secondo acquisto è una giacchettina smanicata sono rimasta vestita così così vi faccio vedere che lo metterò anche su questa donna allora mi avvicino è in questo tessuto non so se riuscite a vederlo ha il cappuccio è appunto dicevo smanicato ed ha questa cintolina in vita adesso la indossiamo e vi faccio vedere com'è è molto caldo aperto le mani così qui appunto come vi dicevo ha questa cintolina che andremo a chiudere e questo è il cappuccio allora questo è carinissimo perché si può indossare sia portando un jeans sia appunto portando una donna ne aveva diversi colori ne aveva grigio beige viola forse anche nero però a me piace tanto il viola sono amante del viola al contrario di mio marito che odia il viola ma io ci vesto lo stesso e questa è la giacchettina il cappuccio diciamo che questo qui potrebbe essere perfetto anche per Halloween magari con un naso un po' appunto una mela in mano tipo la strega di Biancaneve e questo è la giacchettina mi piace tantissimo morbidissima adesso vi faccio vedere il terzo acquisto ragazzi questo è la giacchettina parlo di questa magliettina l'ho già indossata tanto si vede bene anche indossata ha anche questa la stessa fantasia della gonna i colori sono leggermente diversi al posto dell'ottogno c'è l'arancio che è un altro colore must della stagione in fondo ha questo questo pizzo che esce fuori anche questo è dello stesso tessutino della gonna è fatta così ha questo scollo e indietro ha questo laccino da legare a questa manica un po' larghella così che mi piace tanto e qui così volendo sotto ci posso mettere anche magari una mania un pochino più più pesantina magari anche al lupetto a collo alto perché l'inverno questo tessuto mi fa un po' freddo però e questa i jeans li avevo già sono dei calzedonia il dietro è così le scarpe che vedete sono viola sono bellissime queste qui le ho comprate diversi anni fa sono delle veste sono fantastici ma il regalo il mio marito sono meravigliose queste scarpe e queste anche qua volendo possiamo andare a mettere la giaccia che ho fatto vedere prima eccola qua e farvi vedere che anche con il jeans è molto carina eccola qua e questo è l'altro acquisto che ho fatto anche questa mi piace mi piace la colore mi piace questo color mattone ruggine insomma carinissima andiamo andiamo oltre vi faccio vedere un altro acquisto allora questo è un vestitino semplice 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 mi avvicino vi faccio vedere almeno il tessuto questa è la fantasia che più o meno insomma riprende un po' tutte le altre cosine copreso ha questo elastichino in vita cosa che a me non piace così visibile ma ci metterò una cintura copreso ha questa manichina così con questo elastico da tenere appunto su anche qua volendo ci si può mettere sotto una manichina manica lunga dietro è fatto così con questi bottoncini e la lunghezza è questa io l'ho abbinato con un tronchetto e però vi faccio vedere che io ho preso anche la cintura da metterci in vita che queste cinture insomma di di stoffetta di finta pelle perché ovviamente senza niente non mi piaceva quindi ci vado a mettere la cinturina in questa maniera la leghiamo potete fare il fiocco o il nodo e ovviamente il vestito cambia completamente sono veramente comodi questi cinturini qui e danno quel tocco di ampicino quel tocco carino ad ogni vestito veramente carinissima e questo è l'altro vestitino adesso vi faccio vedere un'ultima cosa che ho acquistato anzi avrei preso altri due cosettine ma di un pezzo mi manca il sopra perché mi deve arrivare che non c'era la taglia quindi proprio ve lo farò vedere successivamente ok l'ultimo acquisto è questo completino questi sono i pantaloni fantasia animaliere come va quest'anno sul grigio io li ho presi allora in vita sono fatti così hanno questo elastichino con insomma queste corpacelle in fondo ce le ha disvolte ma potete anche girarli e portarli giù completamente io sotto ci ho abbinato una panottina semplice nera poi sopra ho preso questa questa magliettina chi ha insomma la manica fatta in questa maniera mi avvicino questa è una magliettina un tessuto molto 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 morbido appunto dicevo che la manica è fatta così vabbè il dietro è semplice qui è a paricollo e sono veramente pomodi i pantaloni non sono proprio imbottiti è un cotone si è più pesante però non sono niente di eccessivo ha le taschine queste sono le taschine e poi un altro pantalone che ho preso che tanto non vi farò vedere perché mi manca il pezzo sopra è questo è questo con questa reglina oro in vita e insomma il polsino in fondo a pantaloni questi sono più imbottiti sono proprio felpati e sopra poi c'è anche la felpa uguale con la cerniera che però appunto mi deve arrivare nella taglia perché non c'era ragazzi questi sono tutti i miei piccoli acquisti che ho fatto il negozio per chi mi seguisse da Pisa perché tante ragazze sono anche di Pisa che mi seguono è a Ponzacco quindi magari è più reperibile per chi sta nella zona di Pisa si chiama Modeo comunque tanto metto il link della pagina Facebook sotto nell'info box vi mando un mega bacione spero che questo video vi sia piaciuto in tal caso spolliciate iscrivetevi al mio canale e al prossimo video ciao